Quest'anno alla conferenza nazionale di statistica dell'Istat si parlerà di esigenze informative e di dati necessari per le decisioni, di dati necessari alla pubblica amministrazione, alle imprese, al mondo della società civile, alle comunità. In questo panel ne parliamo con Carlo Mocca Sismondi di Forum PA, con Gaetano Esposito dell'Istituto Tagliacarne, Vanessa Pallucchi della Forum del terzo settore e Alessandra Rachina, collega del Corriere della Sera. C'è una domanda di dati che sta crescendo con l'uscita dall'emergenza e si rivolge in particolare alle politiche per la recovery che verranno sviluppate nei prossimi anni. In che modo le pubbliche amministrazioni riusciranno a seguire e a produrre i dati necessari per leggere questo mutamento? Una delle questioni che affronteremo in questo panel e in altri panel della nostra conferenza nazionale. Grazie. 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 Grazie.